La nostra trasmissione Freedom Oggi scopriremo le antichità che gli ex, non volevo dire, l'hanno portato qui sulla terra, motivi di fede, motivi di chi ci crede, chi non ci crede, qui è caldo, insomma cercheremo di scoprire insieme queste cose molto antiche, come questo vaso per esempio, ma ci sono, scusate che è caldo, che qua è praticamente cose bellissime, non so se il cameraman riesce ora a inquadrare, come dice il nostro amico Archippo, praticamente ora andremo a scoprire luoghi che non sono mai stati toccati prima d'ora, se avete pazienza di seguirmi, andiamo, stop! Benvenuti, benvenuti amici, siamo qua all'interno di queste splendidi piramidi dove la luce ancora del giorno non è arrivata e sono secoli che non è arrivata, lasciatemi sul grosso, comunque cercheremo di andare tutti giù con i nostri amici cameraman che ci seguiranno e vi prego ora di accendere le luci delle vostre fotocamera e così ci addentreremo in questo luogo, seguimi, fai molta attenzione a non toccare i graffiti sulle parecchie. bene, qui giù è molto caldo, a questo punto bisogna che faccia una manovra che mi giri per entrare all'incontrario perché qui sennò non ci entro... fatte attenzione ai cameraman mi raccomando e soprattutto il mio telefono ci stiamo infiltrando lì dove le generazioni si domandano dove stiamo andando? non lo so siamo arrivati eccoci arrivati è sempre più caldo qua dentro anche il secondo camera forse è meglio che accenda la luce seguitemi ora e andremo ancora dove le grotte sono più profonde bene amici continuiamo la nostra fantastica avventura che casino che c'è qua venite venite con me è la mia panza attenzione qui c'è un oggetto che chissà questione di fede questione di extraterrestri non lo sappiamo è un cubo che potrebbe sembrare un semplice cubo ma potrebbe essere un oggetto misterioso che viene chissà dallo spazio indagheremo e vedremo cosa salterà fuori qualche cosa andiamo seguitemi amici stiamo per andare lì dove ci sono i resti dell'antica faraona la moglie del tacchino quello gigante che vediamo che casino che avrà lasciato vediamo se dei resti possiamo trovarli seguitemi abbiate la pazienza seguitemi attenzione 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 bene amici venite inquadra inquadra pure questo giaciglio della mummia ecco la sotto c'è ancora un fetino mummificato ma possiamo vedere che noi non possiamo toccare nulla perchè abbiamo il permesso ma non possiamo toccare nulla però eccezionalmente per freedom vediamo questo piccolo oggetto mummificato lasciamo lui e possiamo vedere qui dei resti ecco girate di là andate seguite guardate incredibile amici meno male che non ci sono le mutande attenzione infatti guardate guardate qua inquadrate no questo resto è veramente un pezzo di un non lo so amici guardiamo uno due guardiamo semplicemente dei compromettenti tre e quattro ops e cinque più cose che non si possano vedere e sette rimettiamo tutto così così come la storia ci tramanda dai secoli secolori bene amici per oggi la nostra puntata finisce qua e vogliamo tornare su risorgere alla vita reale alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti